E' sbarrata la porta dell'archivio di Stato da dove ieri i soccorritori sono entrati per cercare di strappare alla morte Piero e Filippo, i due dipendenti che poi purtroppo, come sappiamo, sono deceduti per la fuga di questo gas Argon. Un impianto simile a quello dell'archivio di Stato era stato progettato anche per la provincia di Arezzo, un progetto che poi non ha mai visto la sua realizzazione. Noi abbiamo parlato con un tecnico che lo ha proprio redatto. All'interno di questo progetto c'era ovviamente una parte specifica che riguardava il personale e soprattutto sul fronte della sicurezza. Lei ha progettato un sistema simile a quello utilizzato all'archivio di Stato? Sì, ho collaborato nella progettazione dell'archivio della provincia di Arezzo, che poi dopo non è partito come lavoro, però conosco abbastanza bene quello che significa un impianto come quella d'Argon, impianto in questione. Perché ci sia una combustione c'è bisogno di tre elementi contemporaneamente presenti, combustibile, comburente e sorgente di innesco. L'impianto ad Argon serve per andare ad abbassare la concentrazione o a togliere la presenza dell'ossigeno in aria, quindi del comburente. È naturale che poi per quanto riguarda il decreto ministeriale 10 marzo 1998 e decreto legislativo 81 del 2008, è necessaria la formazione per quanto riguarda le procedure antincendio e di gestione delle emergenze. Ci devono essere dei veri e propri addetti alla gestione delle emergenze e comunque tutto il personale, in base all'articolo 36 del decreto 81, deve essere a conoscenza di quelle che sono le procedure antincendio e di gestione delle emergenze. Ha detto che lei aveva preparato per la provincia di Arezzo, c'era anche questa parte della formazione del personale? Assolutamente, era previsto che se ci fosse stata un'emergenza poi c'era un sistema di allarme che richiamava l'attenzione del personale che doveva essere presente attiguamente all'archivio perché è naturale che l'archivio doveva essere totalmente isolato, non c'era la possibilità di presenza di aria o comunque se c'era, l'intervento dell'Argon faceva sì che si abbassasse la soglia di ossigeno e quindi di conseguenza questo poteva essere pericoloso per il personale che doveva intervenire e che quindi doveva essere dotato di dispositivi di protezione individuali. Una maschera isolante sul volto della persona con una bombola dietro dove c'è aria. Va comunque anche in un ambiente in cui non c'è ossigeno, comunque l'aria è data dalla bombola presente e che praticamente è su delle bretelle che porta l'operatore. Ecco tutto qui. Il giorno dopo la tragedia in molti si chiedono come mai i due dipendenti regolarmente formati per la sicurezza, come afferma il direttore ai nostri microfoni, abbiano deciso di scendere quelle scale perché, se i dipendenti erano a conoscenza della pericolosità del gas Argon, sono rimasti all'interno della struttura. Domande alle quali risponderà l'inchiesta della procura di Arezzo. Il fascicolo è stato aperto per omicidio colposo plurimo. L'autopsia sui corpi dei due arettini sarà eseguita con ogni probabilità lunedì prossimo. I sindacati confederali hanno proclamato una giornata di sciopero generale nel giorno dei funerali per il quale il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli aveva già indetto il lutto cittadino con l'esposizione delle bandiere a mezzasta. Gli esercizi commerciali di Arezzo saranno invitati ad abbassare le saracinesche. Da Roma il ministro dei beni culturali Alberto Bonisoli ha espresso le proprie condoglianze e contemporaneamente ha inviato tre ispettori del ministero arrivati ieri ad Arezzo per svolgere un'indagine interna. Le vedove di Piero Bruni e Filippo Bagni, Monica e Anna hanno ricevuto una telefonata dal ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli che ha espresso il proprio cordoglio.